Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconterò una cosa che ai tifosi non piace. Ai tifosi non piace sentirsi dire la realtà. Come cantava Vasco Rossi, guardala in faccia la realtà se sei sincera. Guardala in faccia la realtà se sei sincera. Guardare in faccia la realtà non è da tutti. E' meglio tifare. Perché sentirmi dire che sono stato preso in giro? Caspiterina, ancora una volta mi hanno preso in giro? No, continuo a tifare e faccio finta di non sentire. Allora, quello che vi andrò a dire, ve l'ho detto tante volte, i video di fanpage hanno provocato un qualcosa di molto grande, molto grande. I video di fanpage sono usciti in concomitanza col G7. Mentre la Meloni era al G7 uscivano i video in televisione. L'hanno visto tutti i leader europei. Infatti, Schultz per primo, Italia estremisti. Infatti disse subito Schultz il giorno dopo i video e pensavamo che erano conservatori in Italia, invece sono degli estremisti di destra. Chissà come mai. Chissà come mai. Subito dopo l'Europa, la von der Leyen, hanno preferito stringere patti con i verdi, con la sinistra, escludere quelli che sono stati etichettati come estremisti. Ormai abbiamo questa etichetta e non ce la toglie più nessuno. Il tentativo di Bruxelles, scrive il libero quotidiano, di trattare l'Italia come l'Ungheria. Oggi l'Italia di Meloni in Europa viene accomunata all'Ungheria di Orban. E certo, almeno secondo la mia opinione, non è propriamente questo gran bel complimento. Non so, a voi piace sentirvi dire che l'Italia è come l'Ungheria? No, a me non piace. A qualche tifoso piacerà, sicuramente. A diversi tifosi piacerà. E così oggi Bruxelles tenta di... Certo, l'Italia è sempre uno dei paesi fondatori, è il paese che può mettere il veti, è la terza economia europea, è Germania, Francia, Italia. È la terza economia su 27, quindi economicamente potente, militarmente anche potente. È il secondo esercito europeo, ricordatevelo sempre. È giusto per dire, terza forza economica, da forza militare, paese fondatore, diritto di veto, uno dei fondatori della Nato, uno dei fondatori dell'ONU. Insomma, è un paese importante, quello dove siamo nati, è un paese molto importante. Un paese importante che oggi viene visto, dice sì, ho capito, è importante tutto quello che volete, ma oggi quelli sono come Orban. Ecco, questa etichetta dell'orbanizzazione, orchestrata dalla sinistra, dai video di fanpage, da tutto quello che volete, però i giornali di sinistra sempre hanno raccontato in Europa che noi eravamo come nel 1930, quindi i giornali di sinistra hanno raccontato questo. I politici di sinistra, prima che arrivasse la Meloni, erano andati in Europa a dire aiutateci, è finito, quella si affacerà dal balcone di Palazzo Venezia. Quindi hanno dipinto politici italiani di sinistra, giornali fiancheggiatori della sinistra, hanno dipinto l'Italia in Europa come un paese molto peggio dell'Ungheria, molto ma molto peggio. Quelli estremisti, ma l'Italia si stava per affacciare dal balcone di Palazzo Venezia, ancora peggio, cioè bisognava stare molto attenti all'Italia, rafforzare i confini perché arrivava una che si affacciava da Palazzo Venezia. Naturalmente la Meloni ci ha messo due anni a far capire che il suo governo non era come raccontavano giornali e politici di sinistra. Poi sono arrivati video di fanpage, video e audio, quello che hanno visto in Europa, hanno detto, ah, questi sono gli italiani, questo è il governo italiano, etichetta, dice dammi un'etichetta, mettiamogli qua l'etichetta, estremisti di destra. Come si dice in Sicilia, fatti la fama, fatti la fama e va a curcate e vai a dormire. Una volta che ti sei fatto la fama non te la togli più. Cioè far sì che quei video di fanpage vengano dimenticati è difficile se non impossibile, devono passare anni e anni e la gente sempre si ricorderà. Ah, ti ricordi? Ah, ecco. Quindi una volta che vieni etichettato è finita. Lo diceva anche Renzi, dice qui mi mandano, mi indagano, mi indagano, mi infangano, poi anche se dicono i fatti non sussistono. Per pulire la mia reputazione, dal tarlo che hai messo in testa alla gente, che quello è un po' così, ci metti anni, cioè ci metti un attimo a infangare una persona. Ti indago per presunto reato, tu vieni etichettato come una brutta persona e quella etichetta, quando poi diranno i giudici i fatti non sussistono, ci scusi, tu quell'etichetta non te la togli più. Ci vorranno anni e anni per far dimenticare, tra virgolette. Quindi qui è la stessa cosa. Oggi ci siamo urbanizzati e quell'etichetta è difficile da togliere. E poi si scopre che quel dossier uscito dall'Europa, quel dossier contro l'Italia, anche quello fa parte di questa macchina etichettatrice di sinistra. Si scopre poi che quelle fonti citate nel rapporto di Bruxelles per scoprire la patacca sono rigomiosamente antigovernative. Pregiudizio, l'oggettività sostituita dalla partigianeria, il documento della Commissione europea sull'Italia è inficiato da passaggi di straordinaria faziosità che servono esattamente allo scopo maggioranza di centrodestra, l'ombra dell'autoritarismo, eccetera, eccetera. Pertanto si scopre poi che quel documento contro l'Italia, dove sono tutti preoccupati per il finto premierato, per l'autonomia, per la riforma della giustizia, tutti estremamente preoccupati. Perché? Si scopre che quel documento è stato poi stilato da personaggi di sinistra, che hanno etichettato l'Italia come estremista di destra, quindi tutto viene visto in fase predittatoriale, cioè toccano la magistratura, eccoli là, eccoli lì, fanno l'autonomia, eccoli lì, dividere come la Jugoslavia, premierato, eccola lì, palazzo Venezia, il balcone, quindi tutto viene visto nell'ostica di predittatura. Quindi questo per dirvi che quei video di fanpage hanno fatto un danno inimmaginabile alla reputazione italiana. Ma non è colpa di fanpage, fanpage ha solo mostrato quello che hanno visto, le telecamere hanno registrato. Non sto dicendo che fanpage è causa di questo, è che si è visto cosa c'era all'interno, e l'hanno visto tutti, per mezzo di una telecamera nascosta di fanpage. Ma fanpage non può essere accusato di aver fotografato la realtà là dentro, chiaro? Arrivederci a tutti e grazie.